Incidente sul lavoro questa mattina alla Portovesma SRL, un operaio dell'impianto dove si produce il piombe caduto da una passerella mobile a più di due metri d'altezza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia per alcune lesioni al tronco e l'azienda, l'ASL e l'INA hanno avviato indagini per verificare le cause dell'incidente.